La parola consigliera viene a me per le altre interrogazioni. Perfetto, allora consigliere Martinelli, ricordo a tutti comunque che le interrogazioni non devono essere occasione per instaurare un dibattito. L'interrogante interroga e chi è di dovere risponde. Allora, intanto ho sentito parlare di un'amministrazione campione di trasparenza. Bene signori, questa è la risposta che è stata data a un'interrogazione del 2 luglio 2013. Un anno e mezzo fa si era chiesto all'amministrazione conto di Euro 52.516 spesi per pubblicità di Marble Week. La risposta è arrivata l'11 maggio. Ci sono voluti un anno e mezzo per fare un foglio Excel di 20 pagine. Complimenti. 20 righe, scusate. Complimenti alla trasparenza e soprattutto alla tempestività. Poi era stata fatta un'altra interrogazione sulle nomine nelle partecipate del luglio 2014. Il sindaco ha risposto nel febbraio 2015, qualche mese dopo, insomma stiamo migliorando. Nell'interrogazione, almeno apparentemente, nell'interrogazione si chiedeva un elenco puntuale di tutti i rappresentanti del comune in carica, la data di incarico, lento, la società partecipata in cui sono stati nominati i ruoli che ricoprono, come primo punto. E a questo effettivamente l'amministrazione risponde che è stato predisposto nel sito internet un apposito spazio in cui effettivamente questi soggetti sono elencati. Poi si chiedeva, e qua vengono le dolenti note, copie della documentazione previste dall'articolo 7 del regolamento comunale per ciascuno dei disegnati. L'articolo 7 del regolamento comunale prevede che coloro che vengono nominati o disegnati devono far pervenire al sindaco una dichiarazione di cui si chiedeva copia di accettazione della nomina e in cui si attestava l'inesistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto l'interesse o di caso di esclusione di cui al precedente articolo 3 di cui parleremo dopo. E la situazione patrimoniale del rituale che effettivamente quella è pubblicata sul sito dei partecipati. Copia della documentazione di cui è l'articolo 7, io non ne ho ancora vista. Questa sarà trasparenza, boh, per il tempo voi. Poi si chiedeva, e in effetti la domanda era maliziosa, verifica puntuale, motivata e in forma scritta del sussistere delle requisite di cui è l'articolo 2, il rispetto dei limiti di cui è l'articolo 4 del regolamento comunale e il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 39 del 2013. Che cosa ci dice l'articolo 2? Ci dice quali sono i requisiti soggettivi dei candidati. Di questo ovviamente non abbiamo avuto traccia, non abbiamo avuto nemmeno traccia dei limiti di cui è l'articolo 4. L'articolo 4 ci dice che non può essere nominato alcun disegnato contemporaneamente in più enti. Voi che siete bravi, avete mica notizie di professionisti nominati in più società partecipate? No, mai, mai, trasparenza, poi si chiedeva anche, verifica del dettato normativo 39 del 2013. Che cosa ci dice il decreto legislativo 39 del 2013? Ci dice che non possono essere nominati ex consiglieri comunali che sono decorsi dalla carica entro due anni. Avete mica notizia di ex consiglieri comunali nominati entro due anni? No, va bene così, va bene così. Ma guarda perché l'interrogazione è bello perché la risposta è meravigliosa. E ci dice che, attenzione, attenzione che non sono io che devo verificare i requisiti, sono gli stessi soggetti, ma chi li ha nominati? Perché in effetti se uno la fa la nomina, la fa la no prima, poi non si ricorda di quello che faranno dopo. È naturale, è naturale. Questa è la vostra trasparenza, io ve lo dico però. Ah, un momento, perché l'articolo 39 del 2013 è carino? Perché mette anche le sanzioni? Perché chi fa quelle nomine può essere inibito a fare il nomine per tre mesi, e questo sarebbe male di poco, perché insomma, ormai le nomine, le partecipate, le avete fatte, quindi potreste affrontare l'argomento anche in modo più sereno. Ma ci dice anche un'altra bella cosa, che i contratti e tutti gli atti fatti da quei rappresentanti sono nulli. Io viaggono che questa notizia non venga in mano a qualcuno che non dovrebbe sapere. Consigliere Martinelli, vi dica pure un'ultima cosa, ma vorrei anche che ci fosse la domanda trattandosi di un'interrogazione, perché ecco, se no non sappiamo nemmeno chi può rispondere, voglio dire. Non sto criticando il suo punto di vista, chiedo solo di capire quale sia la domanda. Allora, ha ragione, però erano interrogazioni che erano state fatte, voglio dire se queste sono, il Presidente del Consiglio prima aveva detto, ah, l'amministrazione sta rispondendo, se queste sono le risposte. Un'altra cosa, avevo anche chiesto in un Consiglio comunale, sempre in via orale, i costi che erano stati sostenuti dal Comune per i marciapieni di via Verdi. Ora all'epoca c'era l'assessore Traversi, ora insomma non è più in carica, però insomma se l'amministrazione si può comunque far carico di rispondere dentro tempi, comburi, non in 30 giorni, però insomma qualcosina di che ci si avvicini. Ah poi faccio l'interrogazione vera e propria, volevo sapere dall'assessore all'ambiente se ha notizie dell'osservatorio rifiuti zero. Assessore Bernardi. Grazie. 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 Si, molto brevemente, perché non ho notizie sul rifiuti zero, quindi proprio vi devo far preparare una relazione dall'ufficio ambiente, quindi che poi darò anche ai membri della Commissione, perché è da diverso tempo che si discute di questa cosa, quindi dove il Comune ha già aderito e quindi è una cosa che ci teniamo, però ultimamente non avevo ancora avuto notizie in merito all'argomento. Volevo aggiornare l'assessore che il Comune, oltre ad aver aderito alla strategia rifiuti zero, l'anno scorso, credo a febbraio, ha anche istituito un osservatorio di rifiuti zero, di cui fa parte lei, alcuni consiglieri comunali, il Presidente dell'AMIA, del CERMEC e alcuni membri esterni, tra cui Rossano Ercolini, se lo ricorda. Ad oggi io non ho notizie di questo oggetto misterioso che è stato voluto dal Movimento 5 Stelle, qualcuno è andato sul giornale a farsi la foto con Rossano Ercolini, però ahimè, ahimè, a lato pratico di questa cosa ampiamente discussa, voluta, su cui l'opposizione ha mostrato la massima apertura rispetto alle modifiche della maggioranza, ahimè, a lato pratico, dopo un anno e mezzo, purtroppo, cari signori, non abbiamo alcuna notizia. grazie Grazie a tutti.